In vista del tradizionale corteo della bolla per la 728esima perdonanza celestiniana del prossimo 23 agosto, sono state presentate le figure simbolo del corteo. Adriana Carolina Pinate, 39enne, urbanista di nazionalità venezuelana, ricercatrice in economia applicata al Gran Sasso Science Institute dell'Aquila e madre di una bambina di 5 anni, sarà la dama della croce dell'edizione 728 della perdonanza. Sarà lei a portare sul cuscino la simbolica croce del perdono realizzata dall'artista Laura Caliendo. Per me è qualcosa di molto importante rappresentare la città dell'Aquila, rappresentare il messaggio del Papa Celestino V e il Gran Sasso Institute, dove io lavoro e dove tanti noi come ricercatori siamo qua in questa bellissima città. Xiong Fu, 26 anni, fisico di nazionalità cinese, è ricercatore nell'ambito di un progetto sulla fisica fondamentale nei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Aquila. Sarà lui il giovine signore di questa edizione della perdonanza. È giunto all'Aquila un anno fa con lo scopo di partecipare alle attività di ricerca scientifica nell'ambito dell'esperimento Cuore, in corso di svolgimento nei laboratori nazionali del Gran Sasso. Il giovine signore porterà il ramo d'ulivo del Gezzemani con inciso il sigillo di città con cui sarà percossa per tre volte la porta santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio per ordinarne l'apertura. Sono molto contento di essere scelto questo luogo. Non ho mai visto questa perdonanza. Quest'anno è la mia prima volta. Qasar Abul Fazil, 27 anni, di nazionalità afghana, laureata in scienze politiche all'Università di Kabul, sua città natale, attualmente nel programma delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, sarà la dama della bolla dell'edizione 728 della perdonanza celestiniana. La dama della bolla richiera in mano l'astuccio della bolla del perdono, il prezioso documento conservato dalla Banca d'Italia con cui Papa Celestino V istituì nel 1294 il primo giubileo della storia, la perdonanza. Si sente onorata e allo stesso tempo sente la responsabilità di ricoprire un ruolo così importante, tradizionale, riconosciuto come parrimonio immateriale dell'UNESCO. Quindi è una responsabilità ma anche un onore. Abbiamo voluto rappresentare la caratteristica dell'Aquila che è una città aperta, accogliente e inclusiva e lo abbiamo voluto fare raccontando tre storie. Una città che ha saputo e sa, sta recuperando la sua tradizione di luogo di incontri, di crocevia di culture.